ma ancora qua marcus e basta su allora in data 30 ottobre guardate qua in fondo vedete qui qui 30 ottobre allora ambatta contatta collega più numeri a ruota attenzione nessuno ottologo vi spiegherà questo questo è stato un video che ho presentato il 30 di ottobre quindi più numeri con ambatta contatta possono realizzarsi veramente a ruota e io qui vi voglio perché io ringrazio tantissimo guido che mi ha rimandato di nuovo il suo schemino che io vi faccio vedere tutti voi ha avuto la santa pazienza di mettersi lì e controllare le ambate che cioè ragazzi nella stessa estrazione qui si parla delle 24 10 e quindi 24 ottobre quindi recentissimo lui ha cercato quei numeri che andavano a finire in una sola ruota ne ha scelti 4 per vedere se arrivassero qua su torino ebbene sì allora tutti questi numeri tutti questi numeri hanno avuto un percorso cioè quello di arrivare proprio su torino quindi 25 arrivava torino il 73 sulla sua conta arrivava torino il 63 torino e 35 torino uno di questi quattro o più uno di questi di questi quattro doveva arrivare comunque su torino allora sono passati davvero pochissimi colpi perché l'estrazione del proprio del 31 ottobre arrivano proprio il 63 e 35 e 73 adesso grazie guido per questa tua questo tuo intuito nel vedere cosa usciva e cosa non usciva ti ringrazio mi hai mandato lo schema adesso noi qua lo facciamo dal vivo con tutto schermo tutto campo con questo bellissimo programmino di ricerca ringrazio sempre gigi che su igor mio blog lui al sito e grazie a lui abbiamo potuto realizzare questi programmini importantissimi per fare la ricerca dell'otto le avete tutti trolls compresi sabato 24 ottobre il 35 73 25 convergono sulla ruota di torino guardate allora 1 2 3 il 63 il 35 il 73 sono andate finire proprio sulla ruota limite di calcolo a torino se usciva il 25 c'era una quaterna con quattro numeri senza avvertibili quattro numeri senza avvertibili quindi il video del 30 ottobre cavolo severo e io ringrazio tantissimo guido che lui ogni tanto mi manda le mail mi fa vedere qui si mette con pazienza mi fa vedere qui bravissimo guido bravi sei sempre benvenuto guarda così mi facilite le cose perché almeno faccio vedere al pubblico quello che dico è sempre stato vero quindi le mie ricerche sono sempre state reali effettive gratuite e oneste 63 35 73 ora fatevi una vostra ricerchina per conto vostro fatevi una vostra previsione dato che magari queste in pubblico non escono ma fatevi furbi e magari vincete anche un terno e una quaterna e provate guarda un po guido hai visto che roba sulla stessa ruota ma non è finita guardate un po dopo cioè l'estrazione dopo ne manca il 25 quindi è stato di un colpo solo che ha mancato il 25 guardate tang tang guardate tang e tang pochissimi colpi pensate se arrivava il 25 qui quaterna secca su quattro numeri puliti senza man convertibile nessun ottologo vi farà vedere queste cose in tutta italia nessun ottologo vi spiegherà tutte queste cose brillantemente come sto facendo io nette pulite semplici perché io vado per logica aiuto al prossimo altro che faccio pagare buon questa è la mia parentesi ragazzi ci risentiamo ciao ragazzi un abbraccio a tutti sempre dal vostro amico marcus ciao